pallone là, colpo di testa ed è il gol Massimo Ambrosini, Arsenio Lupin Maxime e Optime, Maxime e Optime Arsenio Lupin, Massimo Ambrosini il capitano 1-0 per i ragazzi al ventunesimo minuto è andato di testa su questo cross di Trilli Campanellino morbido, raffinato come un bicchiere di Sauterre davanti a un piatto di foie gras signori, Massimo Ambrosini 1-0 per i ragazzi al ventunesimo minuto Massimo Ambrosini, Maxime e Optime Ambrosini 1-0, è saltato benissimo e nulla da fare per Rubin